Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Cantiere per il giubileo a Piazza dei Cinquecento da lunedì, lunedì prossimo, scattano modifiche alla viabilità su Via Giolitti e nelle strade vicine e così come è prevista una modifica per il Capolinea Bus su Piazza dei Cinquecento. In particolare il tratto di Via Giolitti tra Via Rattazzi e Piazza dei Cinquecento da lunedì sarà chiuso al traffico privato. Nuove discipline di viabilità interesseranno tra le altre Via Gioberti, Piazza Manfredo Fanti, Piazza di Santa Maria Maggiore, Via Falini e Via Amendola e poi prevista una modifica per il Capolinea Bus su Piazza dei Cinquecento. Il racconto completo con tutti i dettagli su RomaMobilita.it